Accogliamo con piacere l'esito favorevole della conferenza dei servizi che ha deliberato la riqualificazione dell'area archeologica di Capocolonna e l'abbattimento di due costruzioni abusive che deturpavano il suggestivo paesaggio del promontorio. Ora aspetta al Comune di Crotone prendere in mano l'iniziativa, con l'incarico di redigere il progetto esecutivo delle opere, finanziato attraverso il PNRR con un importo di 5 milioni e 893 mila euro. Il progetto prevede la demolizione delle due abitazioni previa autorizzazione del Consiglio di Stato. Questo è quanto comunicano congiuntamente Teresa Liguori, consigliere nazionale d'Italia Nostra e presidente della sezione di Crotone, e Vincenzo Fabiani, direttore del gruppo archeologico Crotoniate. Nel comunicato si sottolinea che Italia Nostra non può trascurare di ricordare al sindaco Vincenzo Voce che anche a Punta Scifo c'è bisogno di demolire strutture abusive, tra cui una colata di cemento con le fondamenta di 79 bungalow, una piscina e un ristorante, situati in un'area protetta e vincolata. Anche in questo caso il Consiglio di Stato ha già approvato la demolizione circa un anno fa, mettendo fine a una complicata vicenda amministrativa con risvolti penali ancora in corso. Il paesaggio malconciato aspetta ancora di essere restituito alla sua originaria bellezza e di ristabilire la legalità, spesso messa alla prova in Calabria.